Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, si è chiuso il calcio mercato inglese in entrata per cui Di Bala rimarrà la Juventus almeno fino ad ora, poi vedremo se succederà qualcos'altro fronte PSG, fronte Inter, perché io non escluderei a priori questa mossa, staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni e in questo calcio mercato. Per ora quel che posso dirvi è che io era a favore con uno scambio con Lukaku, poi Di Bala la volontà del giocatore regna sovrana in quella che è la trattativa perché il giocatore non è che può spostarsi contro voglia, deve dire la sua, Di Bala ha detto di no, ha puntato i piedi, non è voluto andare al Manchester United, a me ha fatto un po' arrabbiare, devo essere sincero, però ragazzi io non sono uno che si innamora delle proprie idee. Se Sarri per esempio, a quanto pare c'è stato un colloquio tra Sarri e la Juventus su Di Bala, se Sarri dice a me Di Bala serve e la Juventus non lo cede, va oltre tutte quelle che sono state le problematiche di carattere comportamentale del ragazzo e questioni extra calcistiche, la Juventus riesce ad andare oltre, per me va bene. Poi magari non è detto che quella formazione che metterà Sarri rispecchi la mia idea di calcio o quella che più mi piace, perché per me la prima punta un po' fisica, un po' sporca, è una cosa che io non escluderei mai a priori, è un'alternativa valida, è molto spesso e funzionale anche quello che è il gioco. Io vi ricordo il Bayer di Einkes, che è una delle formazioni che ho amato alla follia per la qualità del gioco espresso, aveva Mario Gomez o Mario Manzucic davanti come unica punta centrale in un 4-2-3-1. Però se l'allenatore dice che Paolo Di Bala deve rimanere alla Juve perché l'allenatore stesso ha bisogno di lui e che lo utilizzerà bene, che sarà in grado di rilanciarlo, che sarà in grado di farlo rendere bene, cioè io non dico no, lo dobbiamo vendere a priori. Assolutamente no, Sarri è più competente di me, faccio un passo indietro e mi auguro che lo faccia rendere al massimo. Poi staremo a vedere se ovviamente Paolo Di Bala rimarrà alla Juve, me lo auguro, perché se va all'Inter, io sclero, ma sclero male, ma sclero contro chi mi ha criticato per tutta questa vicenda, perché se va all'Inter non è assolutamente colpa di Paratici, perché sono più che sicuro che se l'Inter farà qualcosa per Paolo Di Bala, al punto di vista dell'ingaggio, non darà mai lo stipendio a Di Bala che gli è stato proposto per esempio da Manchester United e Tottenham. Non ci arriveranno mai a dargli uno stipendio simile a Paolo Di Bala, per cui Di Bala si accontenterà di qualcosina di meno. Staremo a vedere che cosa succederà. Il mercato è lungo, se rimarrà alla Juventus, Paolo Di Bala da parte mia avrà sempre il massimo sostegno e mi auguro che Sarri lo sappia esaltare, anche perché si sta giocando le ultime carte, le ultime chance di diventare un calciatore importante. Però, caro Paoli, fai funzionare questa ogni tanto, perché finora coi piedi, se te li invidi a mezzo mondo, se non di più, ok? Quello di testa deve migliorare anche tanto, fai un po' un'autocritica. Io, che dire, vi saluto con queste mie riflessioni su questa chiusura di mercato inglese. Ditemi la vostra opinione sotto nei commenti, sono curioso di sapere come la pensate. Ripeto, ragazzi, le idee dell'allenatore, dei dirigenti, molto spesso vanno oltre quella che è la nostra visione. Noi possiamo avere una visione superficiale e quella giudichiamo, però dietro c'è dell'altro. Ci sono rapporti personali, ci sono altre cose che noi non possiamo conoscere. Detto questo io vi saluto, adesso una cena tra amici e tra parenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like e sempre, fino alla fine, forza Juve ragazzi, forza Juve. Ciao. Ciao.